benvenuti benvenuti cari amici siamo un video di questo nuovo video oggi andremo a analizzare naturalmente la situazione sulle altcoin ma non solo anche bitcoin ovviamente tra la luna che sta facendo letteralmente skyrockets guardate qui giornata di oggi più 21 per cento in molti voi ci chiederanno perché samu non hai pubblicato il video alle 13 ok ho deciso di aspettare e ve naturalmente ok c'è stato uno skyrockets di terra luna quindi molto molto bene anche dcr più 14,8 per cento mentre la principale losers è chilis con meno 12,2 per cento vi ricordo che ieri chilis aveva fatto molto molto bene quindi scarico fisiologico per lui poi andiamo a vedere l'alcoindex in questo momento segna 94 quindi giornata di oggi abbiamo avuto un bel pump delle altcoin io come avevo detto più volte mi aspetto un dump che assolutamente arriverà sul mensile siamo a 76 vi ricordo che agosto si sta per chiudere storicamente è un buon mese ok per le altcoin nei confronti bitcoin quindi attenzione ok a chi è esposto sulle altcoin in questo momento perché io non ci metterei assolutamente la mano sul fuoco ora andiamo a vedere chi domina il mercato cioè bitcoin e dopo ovviamente fuoco su terra luna di cui stiamo parlando da un bel po' di tempo e non dico come ne aspettavo questo pump però visto che domani ci sarà lo staking non dico che era telefonato però effettivamente ok abbiamo avuto ragione per cui c'è stato questo bello skyrockets di terra luna ma andiamo su bitcoin 21.540 dollari allora vi dico la verità questa chart non mi piace perché perché abbiamo questa forte resistenza ok sui 21.800 dollari colpita più volte addirittura due volte nel giro di pochissimo tempo sia al 24 agosto alle 16.30 che al 25 agosto alle 7.30 ora se assolutamente non arrivano volumi su bitcoin quindi non andiamo a passare i 21.800 dollari attenzione perché secondo me potremmo riavere tangenza su questa trendline ascendente quindi probabile che bitcoin possa ridampare sui 21.100 dollari ovviamente vi ricordo che il supporto più importante per bitcoin è sui 20.000 dollari quindi rischio per ora scongiurato tra virgolette perché in questo momento sembra più facile ok più probabile che bitcoin possa andare ad attaccare nuovamente i 21.800 e rompere per poi andare in questo range tra i 21.800 e i 23.124 ok però attenzione perché se non lo farà guardate qui prossimo target sono i 20.000 dollari quindi in questo momento sono più long rispetto ad eventualmente uno short ora andiamo a vedere quella che è la nostra tra virgolette gemma possiamo chiamarla di cui stiamo parlando tanto cioè terra luna in questo momento capitalizzazione di mercato di 806 milioni quindi più 20% volumi nell'ultimo 24 ore 169 milioni di dollari quindi ottimo per quanto riguarda terra luna un più bel 21% per quanto riguarda i volumi quindi naturalmente dove è stata più tradata ovviamente binance con 49 milioni di dollari ora perché terra luna ha fatto skyrockets guardate qui l'annuncio di binance arrivato 4 ore fa andiamo subito a vederlo qual è l'annuncio? allora l'annuncio è il seguente cioè ci sarà questo upgrade aggiornamento della blockchain ok di terra luna addirittura ci saranno 9 milioni ok di blocchi per quanto riguarda terra luna e i prelievi ok di lunk su binance sostanzialmente non subiranno grosse evoluzioni ok quindi si potrà sia depositare che prelevare lunk però attenzione perché abbiamo l'aggiornamento innanzitutto 22 che è arrivato sulla blockchain di luna e poi dobbiamo ancora implementare quella che l'ha proposta 3568 cioè del bar all'1.2% vi ricordo che domani avrà inizio lo staking ok però attenzione perché se binance va a dare queste notizie è da priorità ok a queste notizie non è che binance come abbiamo già detto all'interno del codice ha già implementato quel 1.2% di barne potrebbe essere ok secondo me non dico che è probabile però non dico altamente probabile però sapete quelle cose che vi sentite dentro ok io penso che effettivamente binance stia muovendo ok qualcosina piano piano in questo momento poi altra cosa molto importante qui lunk validator ci dice che dal 26 agosto al 12 settembre luna potrebbe fare 10x allora possibile ok però non metteteci assolutamente la mano sul fuoco ok su questa cosa anche se io nel lungo periodo rimango bullish su luna guardate qui proposta scusate aggiornamento versione 22 andato che riguarda sostanzialmente lo staking e qui si parla anche di un barne all'1.2% ora ci danno anche delle piccole ok previsioni se effettivamente ci sarà lo staking che vedremo domani ma ci dovrebbe essere è il barne all'1.2% qui su lunk.bet ci dicono che addirittura lunk potrebbe raggiungere i 30.000 vi ricordo in questo momento il prezzo di luna sta esattamente a 12.000 quindi sarebbe circa un 3x poi altra cosa che mi piace tantissimo è la seguente perché sembrerebbe ok sembrerebbe ve lo dico che il codice di luna per quanto riguarda lo staking ovviamente è stato implementato e guardate qui questo è il numero che ci dava anche binance e sembrerebbe che anche ok il codice i blocchi per quanto riguarda invece il barne siano già stati implementati quindi attenzione perché 12 settembre è assolutamente una data da attenzionare andiamo a vedere anche il numero di luna finora bruciati ok 3 miliardi quindi sostanzialmente rimaniamo lì come vedete principale barne sempre lunatics poi segue mxc con 533 milioni lung dow e binance con i suoi 132 milioni quindi sostanzialmente non cambia nulla anche per quanto riguarda gli holders binance detiene sempre il 40% io sarò curioso se effettivamente al 12 settembre verrà implementato questo 1.2 per cento di barna che veramente potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda la luna ora andiamo a infatti pensate dal 20 ok di agosto dagli 8.574 a oggi ai 12.032 quindi sostanzialmente ci siamo andati a fare un più bel 50% che nei giro di due giorni quindi attenzione al coindex al 94 però che cosa vedo guardate qui sicuramente interessante l'action che si è andata a strutturare perché sembrerebbe ok che in questo momento gli 11.213 siano il nuovo supporto per quanto riguarda la luna quindi può essere una buona area di entry ok questa qua naturalmente l'area di entry ce l'avevamo già prima quando parlavo però secondo me terra luna come prossimo movimento me lo sono dato qui come target potrebbe andare a prendere i 16.688 naturalmente non sono né così finanziari né così trading però vedremo ok se effettivamente sarà così ora andiamo a chiudere con Shiba Inu e infine Seisius Shiba Inu potrebbe avere anche lui un altro rally del 50% la mia risposta è potenzialmente sì ok andiamo a vederlo subito perché Shiba potrebbe anch'esso fare questo movimento che sarebbe scusate del 22% ok quindi non del 50% e Shiba Inu in questo momento sembra aver confermato questo supporto sui 1300 che io più volte ok vi parlavo quindi però attenzione perché Altcoin Index sia per LUNC che per Shiba è a 94 quindi potremmo avere un dump però secondo me prima di avere il potenziale dump potremmo vedere ok per quanto riguarda LUNC i 16.688 e per quanto riguarda Shiba Inu anche nuovamente i 1700 questo è un po' la media naturalmente chi poi vuole maggiori informazioni essere sempre aggiornato vi ricordo anche che c'è attivo il gruppo Elite andate sotto in descrizione cliccate all'interno del mio sito e naturalmente potete iscrivervi io volevo riaprirlo che a partire da settembre però vista la situazione visto che oramai stanno ritornando tutti dalle vacanze ok lo riapro proprio da ora andiamo a vederci anche quello che sta avvenendo sullo Shiba Shop ok finora sono stati bruciati 32 miliardi ok di Shib API al 7.83% quindi comunque Shibast sono bruciati ok pian pianino non male abbiamo un po' rallentato però direi ottimo in importante che il burn sia costante andiamo a vederci Seisus allora io vi parlavo di quel famoso short ok ho chiuso non ho deciso più di scioltare ulteriormente ok Seisus secondo me Seisus sta andando a fare una brutta fine guardate qui siamo a 1.17 e potremmo nuovamente riprendere il target dei 0.20 probabile ok 0.20 barra 0.46 per ora quindi sarà molto importante di raggiungere ok un dollaro ma penso che oramai se lo stanno andando a mangiare Seisus visto che oramai è in bancarotta naturalmente fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate in particolare di Terra Luna Classic di Shiba Inu e di Seisus vi ricordo di di suggerire il like di iscrivervi al canale e ci vediamo presto Grazie a tutti